La giornata di quelle che vogliono ad uscire per andare al mare e magari a fare un picnic all'aria aperta, un 25 aprile con il sole, con un clima primaverile, ma che quest'anno deve essere trascorso in casa, lontano da amici, parenti, perché le restrizioni legate alle misure di contenimento da coronavirus sono ancora in vigore, fino al 3 maggio, quando alcune di queste restrizioni dovrebbero essere alleggerite. Per la prima volta da molti anni a questa parte, tutte le attività commerciali di Campobasso sono rimaste chiuse le eccezioni di farmacie, tabaccaie ed edicole per effetto dell'ordinanza emanata dal sindaco Gravina, chiusi anche ai cimiteri di Contrada San Giovanni e di Santo Stefano, una città dunque completamente serrata. A vigilare le forze dell'ordine, composti di blocco in entrate e in uscita del capoluogo, dall'alto un elicottero a perlustrare la città, per scovare eventuali trasgressori. In una Campobasso deserta c'è comunque qualcuno che è uscito di casa per fare una passeggiata o fare jogging, pochissime le auto in circolazione, fermate puntualmente dalle forze dell'ordine per controllare le autodichiarazioni da esibire. E se oggi la città si è fermata completamente, non è stato così ieri, quando davanti ai supermercati si sono formate lunghe file di clienti in attesa di poter fare acquisti. Sembrava quasi una giornata normale con le auto in circolazione e Corso Vittorio Emanuele che è tornato timidamente ad animarsi. Tra la gente c'è voglia di tornare alla normalità, è evidente, ma così non sarà per molto tempo ancora. Sarà necessario continuare a rispettare tutte quelle regole utili ad evitare il diffondersi del contagio e anche se i dati sono incoraggianti, ancora presto per cantare vittoria, mai abbassare la guardia, il percorso per uscire definitivamente dall'emergenza è ancora lungo.